Non chiederci la parola che squadri da ogni lato l'animo nostro informe e al lettere di fuoco lo dichiari e risplenda come un croco perduto in mezzo a un polveroso prato. All'uomo che se ne va sicuro, agli altri è da se stesso amico e l'ombra sua non cura che la canicola stampa sopra uno scalcinato muro. Non domandarsi la formula che mondi possa aprirti. Sì, qualche storta sillaba e secca come un ramo. Codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Grazie per la visione!